Salve a tutti, oggi vi mostreremo il funzionamento del seguente apparecchio, il soft tweeter, uno dei più venduti. Questo apparecchio per funzionare ha bisogno del suo chip all'interno ad 8 canti e di una batteria esterna-interna. Andiamo ad aprire lo sportellino retrostante ed inseriamo con attenzione il chip con i suoi 10 piedini all'interno delle 10 fessure. Lo facciamo delicatamente, dopodiché andiamo ad inserire la batteria interna a 9 volts. Richiudiamo lo sportellino. Per farlo accendere a questo punto spingiamo l'interruttore generale sulla posizione ON. L'apparecchio inizia così a cantare e possiamo selezionare i vari canti dall'interruttore manuale, il selettore con le 8 piste. L'interruttore lo possiamo girare sia nel verso orario che anti-orario. Poi regoliamo il volume nella parte laterale. Lo rispingiamo, questo è il funzionamento base dell'oggetto. Il soft tweeter può funzionare anche con un'alimentazione esterna a 12 volts, quindi possiamo eliminare la batteria all'interno. Lo richiudiamo ed andiamo ad inserire una batteria a 12 volts nel jack esterno. L'apparecchio funziona lo stesso, funziona. Lo rispingiamo, stacchiamo nuovamente la batteria esterna. Cosa molto importante è l'estrazione del chip. Ogni chip è intercambiabile, quindi noi andiamo ad aprire nuovamente l'apparecchio e con movimento basculante lo tiriamo verso di noi. Salve a tutti! Salve a tutti!